Non gradisce molto l'idea di Irvi di dargli il pallone, quindi preferisce passare nelle mani di Langston Galloway che da casa sua spara la bomba del vantaggio. In modo abbastanza evidente, adesso 11 secondi, 9, può cedere il contropossesso alla vanoli. Galloway, altra tripla, questa volta con un libero in più. Il cene sul tono adesso, vicino a sé c'è ovviamente Galloway, pallone schiacciato ancora per lui, stessa Mattonella, ancora! Galloway, sentenza, 26 punti, 6 su 7 dall'arco. Galloway, addoppiato adesso con Eboa che va a prenderlo, non più Metallaga, altro canestro, altra differenza. Grazie a tutti!